Lo vogliamo dire o non lo vogliamo dire? Che lo Stato ci prende un sacco di soldi e li butta dalla finestra e quindi... Fermi, fermi tutti, fermi tutti, fermi tutti. Fabio che c'è? Sono in diretta, dimmi. Qui tutti un cazzo. Aspetta, 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 io non lo so, boh, non lo so. Evidentemente è successo qualcosa di grave, poi diremo. Poi vedremo. Ti dicevo che noi dovremmo tutti quanti pretendere al nostro Stato che i soldi che gli diamo non li buttasse dalla finestra, ma li investisse in modo tale che... Hai da discutere qui perché c'è una persona che qui mi ha quasi affiancato, che dopo ti presento che si sta già caricando a pallettoni. Qualcuno si è domandato cosa mi dovesse, mi doveva dire il direttore Tamburini d'altro giorno. Rimandiamo in onda quello che è accaduto, quello che io stavo parlando, a un certo punto guardo il telefono e vedo Tamburini sopra. Vai regia, vai regia. Sì, sì, rimandiamo. Fermi tutti, fermi tutti, fermi tutti, fermi tutti. Fabio che c'è? Sono in diretta, dimmi. Fermi tutti un cazzo. Aspetta, 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 io non lo so, boh, non lo so. Evidentemente è successo qualcosa di grave, poi diremo. Poi vedremo. Arrivandati in onda. Questo sta male, io non so che cazzo devo... No, ma la cosa più bella, senti tu che cambi tono di voce, tu cambi tono di voce, tu non sei più a gigioneggiare, cambi il tono, rimandalo in onda se hai colaggio, rimandalo. Un sacco di soldi li butta dalla finestra e quindi a prima di provare... Fermi tutti, fermi tutti, fermi tutti. Fabio che c'è? Sono in diretta, dimmi. Fermi tutti un cazzo. Aspetta, 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 io non lo so, boh, non lo so, evidentemente è successo qualcosa di grave, poi diremo. Poi vedremo. Sì. No, scusa. Evidentemente è successo qualcosa di grave, poi diremo, aspetta, 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 tu sei un codardo e aspetta, perché non l'hai mandato in onda il direttore? Ma per forza, mi chiama il direttore, pensavo di mandarlo in onda per fare la solita gag. Fermi tutti un cazzo, hai sentito? Fermi tutti, fermi tutti. Io posso dirti una cosa, era arrabbiatissimo, hai ragione, io sto con lui, io sto dalla sua parte ovviamente, io sto con lui, ti dico di più, io ho preso questa cosa e l'ho messa nella suoneria del mio telefono, la suoneria del mio telefono, fermi tutti un cazzo. E adesso metterò in vendita la cifra simbolica di 0,90 su tutti i miei siti, la possibilità di scaricarlo, sì, lo metterò in vendita nei miei siti. Fabio, 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 fermi tutti, Fabio, lui dice fermi tutti un cazzo. Ha avuto anche la prontezza di girare la cosa, il signor Tamburini, una cosa incredibile, signor Tamburini, signor Tamburini. Fallo risentire che era molto bello. No, adesso il taglio, il taglio, aspetta, ma tu non vuoi parlare, tu pur di non parlare dici fai risentire, cazzo. Fai risentire. Luciano da Bologna, vai Luciano, e tossisce, avanti, Luciano da Bologna. Luciano da Bologna. Arrivo. Stai in condizione. Arriva. Pronto, pronto, eccomi. Sta pisciando. Stai in condizione. 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 Grazie.